o Lione, uno dei più grandi centravanti della storia del Napoli, veramente un grande. A chi del laureo ottiene 300.000 preferenze. Fu un bel Napoli, quello con Vinicio e Jepson, Beltrangi, Pesavola e Amadei, portiere Bugatti. Bugatti e Comaschi furono i pilassi della difesa del Napoli. Fu magico l'aprile del 58 per quel bellissimo Napoli, quarto posto dietro Juventus, Fiorentina e Padova. Vinicio segnò 21 gol, con quella sua forza di vero centravanti.